Siamo ancora in Barru, dai che entriamo, questo è il cancello, il moderno. No, perché qualcuno mi ha detto che in fase di scavo, dunque volevo verificare di persona, prima di esporne, ecco, questo è considerato che questo è un finto. Faglio iniziale, metto in mezzo di erza, piante, stanno crescendo gli alberi. Faglio iniziale, metto iniziale, fiacciate. Alla programma più alta, metto, effettivamente abbiamo ancora in пос riskdale. Viva la comparsa! Avviste che da l'epiccia con potente da tinial вн E потом, non ti posso fare n расп meno прибora a preparare camera. Grazie a tutti. Questa è il secondo ingresso, per passare qui un po' Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.